Ladies and gentlemen, Miss Sarah Jane Morris! Sarah Jane Morris in concerto. Giovedì 20 luglio alle ore 21.30 alla piazza Castello Aragonese si conclude il Festival delle Arti della Magna Grecia. La grande voce di Sarah Jane Morris, un insieme di musica rock, soul, pop, jazz che si unisce alle grandi chitarre di Tony Remy, Scott Furt e Derry Thomas. Sara Jane Morris, giovedì 20 luglio alle ore 21.30 si conclude il Festival delle Arti della Magna Grecia a piazza Castello Aragonese di Reggio Calatria. Ingresso gratuito!